Mi chiamo Scarlett Marlow e studio archeologia urbana. 112 metri sotto questo punto c'è una stanza segreta. Forse dentro c'è un pezzo fondamentale della nostra storia. Ma come la raggiungiamo? Dalle catacombe. Abbiamo 320 chilometri di gallerie sotto i nostri piedi. Dentro ci sono i resti di 6 milioni di cadaveri. Fermatevi, questo è l'impero dei morti. Sono ossa umane. Passiamo di qua. Andiamo. Piano e fai attenzione. Sono incastrato. Continua a respirare. Tranquillo, va tutto bene. Che succede? Andate avanti. Andate avanti! Forse ho trovato un'uscita! E adesso che cosa facciamo? Non possiamo tornare indietro. Dobbiamo andare avanti. Non ci credo, abbiamo girato in cerchio. È lo stesso posto? No, è tutto alla rovescia. Dove è finita l'entrata? Aspettate, qui c'è qualcosa! Oh mio Dio. Che diavolo è questo? Da bambino avevo un pianoforte identico. Lo suonavo sempre. Il la centrale non funzionava. Che sta succedendo? Riesci a leggerla? Secondo il mito, quell'incisione si trova sulla porta dell'inferno. Dovranno strisciare sul ventre per entrare nel regno delle tenebre. Hai sentito? C'è qualcuno lì? Che ci sta succedendo? Papà? Andiamo, andiamo! Non è stata colpa mia! Non è stata colpa mia! Ehi, bentornati! Se ben ricordate, vi avevo dato la notizia del possibile coinvolgimento di Alfonso Cuaron alla regia di Gli Animali Fantastici Dove Trovarli, lo spin-off del mondo magico di Harry Potter. Ci abbiamo sperato, purtroppo il regista stesso però ha appena smentito la notizia, dicendo che voleva ripulire un po' il suo palato dopo cinque anni di film con tanti effetti visivi. Poverino! Vabbè, ce ne faremo una ragione! Alla prossima con le prossime notizie! Ciao a tutti!